Alcune informazioni pratiche su cosa serve per accedere alla struttura. Come ormai sapete, per accedere alle strutture universitarie è obbligatorio avere il Green Pass e il Green Pass si ottiene attraverso la vaccinazione oppure attraverso il tampone rapido che è quello che si fa in farmacia che ha valore per 48 ore. Quindi oltre a verificare il possesso del Green Pass bisogna prenotare il posto in aula. attraverso un'app di prenotazione che è stata messa a punto dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Il link lo trovate sempre nella news principale relativo alle modalità di erogazione della didattica nel primo semestre. Bisogna andare sul link indicato, vi faccio vedere la schermata, e si accede a questo sito che è quello di registrazione delle presenze per l'Università. Elenco delle aule per zone ed edificio, qui trovate tutti i vari campus di Unimore, tra cui il centro storico. I nostri tre edifici sono tutti all'interno del centro storico di Modena, quindi Fondazione Marco Biagi, MO07 che è il Forobuario, quindi l'edificio principale, MO08, la sede di via Fontanelli. Riprendendo l'orario di lezioni del CLEAN primo anno, per fare un esempio, allora domani hanno lezione alle 14, con matematica generale finanziaria, a seguire diritto pubblico presso l'auditorium della Fondazione Marco Biagi. Qui bisognerà andare sulla pagina di Fondazione, e come vedete trovate diversi link. Il primo è quello che si usa esclusivamente nel caso di recuperi, quindi diciamo non lezioni previste regolarmente da calendario. I link successivi sono invece per le lezioni regolari. All'app ci si può prenotare a partire dalla mezzanotte del giorno stesso, quindi ad esempio qui trovate l'aula dell'auditorium occupata nelle fasce orare delle 8.30 e delle 14. Già da qui vedete che le fasce orare non corrispondono esattamente alle singole lezioni, ma corrispondono all'occupazione di quell'aula a seconda della corte di appartenenza. Cosa voglio dire? Ritorniamo all'orario. Gli studenti del CLEAN del primo anno, che domani hanno lezioni appunto dalle 14 alle 17.15 presso l'auditorium, troveranno un unico link di prenotazione che sarà dalle 14 alle 17.15. Ci si prenota quindi una sola volta, o meglio, una sola volta se si rimane su un'aula, più volte se all'interno della stessa giornata lo studente dovrà cambiare aule. Nel caso in cui, pensiamo a novembre, lo studente dovrà frequentare anche il lettorato di inglese AF, dovrà fare la prima prenotazione per l'aula A nella fascia oraria 12.13.30 e poi la prenotazione invece dell'auditorium nelle fasce orarie 14.17.15. Chi si può prenotare in questa app e chi ha accesso alla piattaforma Moodle? Tutti gli studenti che abbiano fatto una pre-registrazione per un imore. Cosa vuol dire? Che se lo studente, ad esempio, che ha fatto domanda di ammissione a direzione consulenza d'impresa, non è ancora immatricolato, non è necessario. Quindi il sistema controlla che lo studente abbia fatto questa domanda e che abbia quindi le credenziali di un imore. Non serve essere immatricolati. Hanno quindi accesso tutti gli studenti. Non c'è alcuna limitazione in questo senso. Altra cosa, e lo vedrete nella mail che mi sta mandando la collega che si occupa degli orari di lezione, proprio dall'indirizzo mail orari delle lezioni, è consigliabile scaricare l'app Unimore Calendar, settarla sul proprio corso di studio e anno di corso in modo tale che sull'app del cellulare vi arrivino tutte le notifiche che riguardano il vostro corso o più in generale il Dipartimento di Economia. Per quanto riguarda domani, l'accesso a chi avrà lezione nella sede principale del Foro Boario sarà per tutti in Aula Ovest. Quindi tutti gli accessi, anche per chi avrà lezioni in Aula Magna Est o in Aula 4, sarà dall'Ala Ovest. Invece ovviamente Fontanelli avranno accesso tutti dal cortile, mentre invece per quanto riguarda l'auditorium presso la fondazione Marco Biagi. Mi raccomando, tenete sempre monitorato il sito web e la mail di Unimore, quindi quella ufficiale, i nostri canali social dove mettiamo tutte le comunicazioni e gli avvisi perché via via, soprattutto in questi primi giorni, ci potranno essere dei cambiamenti o delle informazioni più specifiche in merito all'accesso proprio man mano che le lezioni iniziano. A questo punto vi saluto e vi auguro un buon inizio di anno accademico. Vi ricordo che per contattarci, per avere ricevimento presso la segreteria didattica è necessario prendere appuntamento scrivendo a info.economia.inmore.it e che il ricevimento è nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9.30 alle 12.30 esclusivamente su appuntamento. Ciao a tutti!